Avete visto la mia casa? Ci sono voluti sette anni a prepararla, a farla così com'è, nel cuore della giungla. Hanno riso di me in tutta la regione, ma è così che la volevo. La desideravo piena di oggetti magnifici. Volevo una famiglia di cui andare superbo in questa casa, che è il mio orgoglio, su questa terra che ho strappato al fiume e alla giungla col lavoro di queste braccia. L'unica condizione che io ponevo per tutto ciò che mi arrivava da fuori era che fosse nuovo, che valesse la pena. Signora, il piano che avete davanti a voi non è mai stato suonato da nessuno prima di venire qui. Se foste più pratico di musica, vi rendereste conto che un piano si rovina a non essere usato. E infatti questo non è un buon piano. Non ho ancora finito quello che volevo dirvi. A me basta così. Buonanotte, signor Langley. A me basta... Grazie a tutti.